Il fatto è non provare a morti, che a volte è un po' esibizionista. Il portafogli, subito. Ma è fantastico, dimmi che stai scherzando, aspetta, ok? Metta solo, solo questo per terra. È pazzesco, ci saranno migliaia di persone a Central City e tra quelli che avresti potuto rapinare, tu hai scelto me. Sei pazzito, dammi i soldi, ho detto. Ti stai tirando la zappa sui piedi, amico. Se ci fossero le Olimpiadi della sfortuna, non solo le vinceresti, ma saresti il nuovo Michael Phelps. Ora conto fino a tre, e poi ti sparo. Uno? Sì. Due. E sebbene il suo desiderio di aiutare il prossimo sia ammirevole, questo gli impedisce di comprendere a pieno la portata delle sue abilità. ma c'è ancora tempo finché il futuro resta intatto.